Amici di Bella Sicilia, guardate dove siamo oggi. Ci troviamo nel villaggio Bordonaro e tra poco vi mostreremo qualcosa di veramente speciale, qualcosa di unico. Lo abbiamo fatto già a pomeriggio sempre. Allora, da questo luogo vi abbiamo mostrato Upadiaro, l'ha scalato Upadiaro, lo vediamo lì l'albero. Per chi volesse sapere di più c'è il video in live, sempre in pagina. Sono quelli del Gappanoia, ne sento arrivati. E allora inquadriamo. Salve! Un saluto a Onda TV Bella Sicilia, ciao! Ecco, e lì c'è l'albero lì sotto, adesso ci sarà una sfida particolare che vi invitiamo a seguire. Ciao Nona dalla Romania, guardate il momento della preparazione. Salve allora, si inizia! Sì, quasi pronto. Quindi attualmente stiamo procedendo... C'è la vestizione praticamente, la preparazione. E' anche pericoloso, quindi... Vanno anche protetto, ora gli mettono un minimo di protezione. E poi ci sarà una sfida? Sì, al suono di una sorta di tarantella. Si sfidano l'uomo e la natura raffigurata dal cavallo. Ecco, e poi vedremo che si accenderanno praticamente... Si accenderanno, sì sì sì. A son di colpi si sfidano, poi chi spara per ultimo vince, prevale sull'altro. Come si chiama questo gioco? Ogni anno si svolge qui, in occasione dell'Epifania, questa iniziativa? Sì sì, in occasione dell'Epifania, non solo in altri posti, sì, nelle feste padronali, nel messinese, in qualche altro posto la fanno. Noi qua in occasione dell'Epifania. Grazie. Prego. Allora, sentiamo per assistere a questo spettacolo unico. Ecco, è il momento. Ecco, vedete? Ci sarà la sfida. Un cavaduzzo. Eccolo lì. Ciao Lucia da Napoli, ciao Angela dalla provincia di Messina, ciao Giuseppe, ci saluta da Vienna, che bello. Noi siamo in un villaggio di Messina, esattamente siamo nel villaggio Bordonaro, ecco questa è la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Abbiamo assistito nel pomeriggio al tradizionale gioco Dupa di Haru, in pagina c'è la live. Siamo pronti quasi? Sì, quasi pronti, il tempo che il mio collega si prepara e siamo pronti. Quindi poi questi qua saranno accesi? Sì, tutto, sì, il cappello, la spada, lo scudo e la corazza. Questa è la corazza. Sì. E la sfida è con il cavalluzzo? Sì. Sì, sì. Ma bisogna avere tante competenze per fare questo tipo di attività. Devi sapere cosa devi fare, come ti devi muovere. Ecco, quindi invitiamo chi sta a casa a seguirci, a non imitarvi. No, 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 non imitate, non imitate, perché ci vogliono i professionisti. E qua avete tutte le precauzioni, avete un giubbotto, quindi... Sì, sì, sì. Ma voi portate in giro questo spettacolo anche in altre località? Sì, 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 Messina e provincia. Messina e provincia. Grazie. E allora, amici, che ci state seguendo, tra poco si parte. Tra poco... Vedremo questa sfida davvero singolare. Fateci sapere da dove ci seguite. Ciao, Rosanna da Ribera. Tra poco ci saranno le arance, immagino. Vediamo se riusciamo a venirvi a trovare. Ed ecco che la sfida sta per prendere il via. Natalina ci chiede un saluto. Sì, Natalina, certo, con tanto piacere. Scrivici da dove ci stai seguendo. Noi siamo a Messina. Andate a vedere in pagina, appena termina questa live, a vedere la scalata d'Uppagliaro che è lì in fondo. L'evento che abbiamo seguito anche con le telecamere di Onda TV, canale 75, quindi presto potete vedere anche in TV con tutte le interviste. E qui, ecco Cavadduzzo. Salve, chi è che sarà il Cavadduzzo? Lei? Sì. Ma da quanti anni svolge questa attività? Arrivo dal 90. Dal 90. Ci vuole professionalità soprattutto per evitare? Sì, un pochettino. Dobbiamo essere più protecnici. Ecco, quindi una tradizione che voi portate avanti in varie località del Messinese. Sì. Oggi qui a Bordonaro, quindi vedremo una sfida tra l'uomo e il cavallo? Sì. Come si chiama questa lotta? In siciliano Cavadduzzo? Sì, il cavadduzzo è l'uomo salvaggio. Cavadduzzo è l'uomo salvaggio, grazie. Ecco qui, tutto pronto. Quindi tra poco sarà acceso? Sì. Ma non è pericoloso? No, le cose sono spesso basso. Quindi a ritmo di musica ci sarà la sfida? Sì, adesso mi chiede. Perfetto, grazie. E allora, intanto la gente è già pronta ad assistere a questo spettacolo ecco lì guardate ecco, tutti pronti per assistere a questa sfida ciao a chi ci segue da Verona ciao e poi da Nino da Padova Antonio salutiamo gli amici che ci seguono anche da Reggio Emilia Maurizio, ciao Mario Rosa da Belluno e poi Giovanna Salvatore ci saluta da un'altra bellissima isola Sardegna vediamo se magari riusciamo a fare un gemellaggio dai magari vi andiamo a trovare con tutto il team di Bella Sicilia Mario Geraci ci saluta da Pietrelia Sottana nelle Madonie salutiamo anche gli amici di Pietrelia Soprana uno dei comuni del circuito Bella Sicilia così come Gangi Lisnello Geraci Siculo e qua si parte è tutto pronto è tutto pronto cosa si prova in questi momenti prima di iniziare tanta emozione perché appunto tutta questa gente li dobbiamo fare divertire quindi tra poco sarà accesa la miccia sì sì e poi al ritmo di musica ci sarà la sfida ciao Maria da Saponara in provincia di Messina anche Alessio dalla Sardegna Rosalia da Alcamo ecco fateci sapere anche se ci sono altri eventi singolari magari che possiamo seguire noi oggi abbiamo dedicato il pomeriggio a questo quartiere di Messina Bordonaro con Upagliaro prima e poi salve ci siamo quasi si sta per partire quasi lei si occupa proprio di questa iniziativa costruisce quindi tutto ma ci può spiegare come nasce appunto questa è una pantomima che nasce in base su diciamo una lotta fra la natura e l'uomo quando venne è un giro d'altavilla nel 1420 e si incontrano a Santo Stefano Medio e da questo diciamo da questa lotta diciamo vera poi negli anni si cercò di replicarla con con i fuori d'altivice con questa pantomima quindi tra poco a ritmo di musica ci sarà la sfida si tra la natura e l'uomo e poi è normale si accenderà la miccia quindi a chi aspetterà il compito di accendere la miccia si accende a lei lo porta avanti da generazione questo sette generazioni complimenti il suo nome salve ed ecco allora tra pochi secondi sarà accesa la miccia tutti pronti qui a immortalare questo momento e voi andiamo di sotto c'è un cavaduzzo ciao ciao a delfino dal Belgio dalla Svizzera Nunzia dall'Abruzzo Roberto eccolo il cavalluzzo aspettiamo solo il via e poi vedremo questo spettacolo davvero unico come abbiamo sentito viene portato avanti da diverse generazioni ben sette ecco qui tra poco si accenderanno questi fuochi non fatele a casa mi raccomando non ne imitate ultimi dettagli prima di procedere al via siamo pronti amici di Bella Sicilia e Onda TV siamo pronti ci mettiamo in distanza di sicurezza in mezzo rimangono solo loro ci spostiamo un po' per mettere in posto di sicurezza perché si sta accendendo la miccia allora continuate a scriverci da dove ci state seguendo poi naturalmente fateci sapere le vostre impressioni e se vi va condividete anche il video si parte e al ritmo di musica inizia la sfida inizia la sfida e al ritmo di musica e al ritmo di musica Amici, guardate che spettacolo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!